Si è tenuto stamattina nell'aula del Consiglio Comunale di Oristano il convegno organizzato dall'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Tema dell'incontro, l'identità professionale del Corpo di Polizia Penitenziaria nell'esecuzione penale esterna. Aperto il lavoro il segretario regionale dell'Unione dei Sindacati, dottor Alessandro Cara, moderatore e avvocato Paolo Moci, garante comunale di Oristano dei diritti delle persone private e della libertà personale. In chiusura l'intervento di Giuseppe Moretti, presidente nazionale dell'USPP. Il tema di oggi è proprio questo, il ruolo della Polizia Penitenziaria nell'applicazione di questo nuovo istituto. Il ruolo della Polizia Penitenziaria è un nuovo incarico che il Ministero e il Dipartimento hanno dato al Corpo di Polizia Penitenziaria, ma anche una serie di nuove regole che sono state imposte attraverso questa riforma al Tribunale dell'esecuzione, al Tribunale di sorveglianza. Oltretutto chiedendo uno sforzo oneroso, dovuto anche al fatto della mancanza di mezzi. È un momento di confronto per accrescere quelle che sono le competenze e portare delle migliorie al sistema, delle misure alternative a livello sia regionale che a livello soprattutto nazionale. Oggi avremo l'onore di aver collegato da remoto anche il sottosegretario Andrea Ostellari, che comunque sia con lui abbiamo iniziato un percorso di confronto anche in altre località. Si tratta di un modello di gestione delle misure alternative attraverso un controllo fatto dalla Polizia Penitenziaria, perché le misure alternative alla detenzione sono la prosecuzione della pena all'esterno degli istituti penitenziari e rappresentano uno strumento efficace anche nel recupero del reo.